Ciao, io mi chiamo Elisa e ho deciso di aprire questo canale di Youtube per condividere la mia passione per il trucco con le altre ragazze. Ho già un blog di cui vi metto il link nell'infobot se volete andarlo a vedere e non sono una professionista, però ottobre inizio un corso di trucco fotografico. Nel mio blog come in questo canale vi parlerò come ho già detto di trucco con delle review sui prodotti, di make up che farò, ma anche farò dei video tag, ma vi parlerò anche delle altre mie passioni tra cui la moda con degli outfit oppure le unghie con gli smalti, nail art. Se anche a voi piacciono le mie stesse passioni sarete le benvenuti sul mio canale e mi scuso se in questo video sono un po' imbarazzata, però essendo il primo fa un certo effetto parlare da sola con una videocamera. Niente, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!